Sgomento e dolore per la tragedia del mare che ha colpito ancora una volta bambini, neonati. Questa è una tragedia che ci fa riflettere e che purtroppo conferma come l'unica vera soluzione sia quella di non farli partire. Le opposizioni rivolgano le loro accuse agli scafisti di morte e non al governo Meloni che sta cercando proprio di bloccare le partenze e quindi i morti in mare. Il suo collega di partito Balboni però oggi in Senato ha detto che l'Italia non lascerà le opposizioni, eventuali spiegazioni o richieste. Non lo so, potrebbe chiederlo a lui direttamente, io l'ho letta proprio qualche secondo fa e evidentemente anche lui vuole apprendere, vuole sapere se è successo qualcosa. Del resto non si deve mai nascondere nulla, la verità non deve fare male a nessuno ma anzi è quella che deve sempre emergere. Per cui ben venga tutto quello che può servire a chiarire i fatti della vicenda. Ma ritengo che in questo momento le polemiche credo abbiano un pochettino l'ascino del tempo che trovano. Ci sono morti, morti, bambini, neonati come ho detto prima. Parliamo di come risolvere il problema.